La Procura della Repubblica dell'Aquila ha aperto un'inchiesta sulla morte del centauro di 57 anni originario di Coppito, Federico Nardecchia, morto nel corso di un incidente stradale che ha coinvolto un'automobile e alcuni ciclisti, che si è verificato lungo la statale 80 del Gran Sasso d'Italia, tra Arischia e il valico delle Capannelle. L'impiegato delle poste lascia la moglie e un figlio. Le indagini sono affidate alla polizia stradale che dovrà accertare tutti i fatti, a partire dall'esatta dinamica del grave incidente. Gli inquirenti ascolteranno i testimoni, in particolare i ciclisti, e l'uomo che conduceva la Fiat 500 contro la quale la moto ha finito la sua corsa. Il conducente dell'auto è rimasto illeso, mentre i due ciclisti sono ancora ricoverati all'ospedale dell'Aquila. Secondo la ricostruzione fatta dai vigi del fuoco che sono intervenuti sul posto assieme alla polizia all'anasi al 118, il motociclista avrebbe invaso la corsia opposta, sfiorando un gruppo di 4-5 ciclisti che andavano sul ciglio della strada per poi finire la sua corsa contro un'automobile colpita lateralmente che proveniva dal senso inverso. La sorella ha spiegato che non c'è nessuna prova, che il fratello abbia invaso la corsia opposta e non sono stati trovati segni di frenata o pneumatici, e quindi andrà stabilita la verità e ci dovranno essere tutti i controlli. La famiglia Nardecchia, molto conosciuta nel territorio aquilano, ha vissuto già una tragedia simile, poiché il pare del centauro aveva perso già la vita allo stesso modo. Tra l'altro, secondo le prime ricostruzioni, il 57enne dopo l'incidente ha avuto anche la forza di rialzarsi per qualche secondo parlando con i feriti.